ciao ragazzi oggi vi ho portato in fiera perché stiamo facendo l'allestimento del super salone come potete vedere questo sarà il nostro stand che andremo ad allestire insieme vi aspetto e ne vedremo delle belle ciao ragazzi abbiamo appena finito di montare lo stand vi aspettiamo in fiera per vedere queste fantastiche creazioni ragazzi ci sono un sacco di oggetti fantastici sarà stupendo questo super salone quasi quasi oggi vado a casa con questa fantastica moto ma che dire di questo skateboard stupendo e venite venite questo desk ringrazio mariano kermikoff e tutti quelli del politecnico perché è una loro realizzazione bellissimo sicuramente il prossimo acquisto che mi sono innamorato per la nostra falegnameria fantastico cool Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.